Buonasera a tutti gli spettatori di Rete4, benvenuti ad una nuova puntata di Stasera Italia. Il Parlamento serve davvero? Dobbiamo farci rappresentare in futuro da deputati e senatori. Secondo Davide Casaleggio, che possiamo definire il guru di quello che in questo momento è il primo partito, italiano no. E ovviamente è scoppiata una grande, grandissima polemica di cui parleremo con il Ministro della Giustizia, Movimento 5 Stelle, Alfonso Buonafede, che salutiamo. Buonasera Ministro, grazie per aver accettato il nostro invito. Buonasera Ministro, grazie a voi dell'invito. Oggi è l'uomo del giorno, il Ministro, perché chiaramente dovremo parlare con lui anche della questione intercettazioni. Oggi si è messo lo stop a quella legge chiamata bavaglio, doveva essere un bavaglio per la stampa. In qualche modo il Ministro ha messo lo stop, quindi affronteremo anche questo argomento. E parleremo anche di legittima difesa, che è l'altra questione all'ordine del giorno, con quelle che sono le varie posizioni all'interno del Governo. E capiremo anche su questo qual è la posizione del Ministro. Prima però, Ministro Buonafede, parliamo delle parole shock di Davide Casaleggio, che dice in sostanza il Parlamento sarà inutile. Abbiamo chiesto subito un commento, un commento d'eccezione al filosofo Massimo Cacciari. Ascoltiamo. Ci sarà sempre bisogno di organi politici, se vogliamo appunto salvare un'idea di democrazia. Di organi politici efficienti, che riescono ad affrontare le questioni che decidono della mia vita. Difende il Parlamento Massimo Cacciari, dopo l'attacco di Davide Casaleggio. Secondo il nuovo guru del Movimento 5 Stelle, il Parlamento, tra qualche lustro, è possibile che non sia più necessario. Addio alle elezioni dei parlamentari, largo alla partecipazione attraverso la rete. E' questo il nuovo modello di democrazia che è in mente il fondatore della piattaforma russo. Il cambiamento travolgerà tutto il Parlamento? Forse sarà inutile. Una formula che non convince molti. Le relazioni commerciali tra Stati Uniti ed Europa, è un po' complicato chiederlo al popolo della rete cosa ne pensate. E in base a quello che loro ci dicono, decidiamo come rapportarsi con Trump. E' ridicolo, capisce? Cioè, le democrazie parlamentari sono in crisi perché non riescono oggi ad affrontare queste questioni. Non qualche puttanata che può essere affrontata benissimo col web. Oggi tutti i parlamenti, per le ragioni storiche, stranote nella letteratura scientifica, che impediscono questo funzionamento, sono in crisi. L'idea di sostituirli con una piattaforma di qualcuno molto abile a fare i suoi affari, come la ditta a casaleggio, molto abile a fare i suoi affari. Ma è evidente che quegli strumenti non sono in grado di affrontare le grandi questioni politiche. I 5 Stelle sono anche divertenti perché hanno una tale spudorata ignoranza in tutte le loro dichiarazioni, che è divertente ascoltarli. Dopo di che, finito il divertimento, passiamo alle cose serie, per favore. E allora, Ministro Bonafede, non solo lei ma noi insieme con Cacciari siamo rimasti un po' spiazzati nel leggere l'intervista di Casaleggio in cui pronostica l'abolizione, praticamente, del Parlamento. Ma è fantapolitica o è questo davvero un obiettivo dei 5 Stelle? Allora, Davide, mi permetta di chiarire che Davide Casaleggio non pronosticava l'abolizione del Parlamento. Nessuno nel Movimento 5 Stelle pensa che il Parlamento vada abolito. Questo lo voglio chiarire a scanso di equivoci. Però nel momento in cui dice che è inutile, mi scusi, Ministro... Faccia concludere. Sì, sì, mi scusi, mi scusi. Noi riteniamo di essere portavoce all'interno del Parlamento e ci pregiamo e ci onoriamo di portare all'interno del Parlamento la voce dei cittadini. La democrazia diretta è stata il pilastro su cui si è fondato il Movimento 5 Stelle. È quello che facciamo. Mi dispiace che una persona sensibile a certe dinamiche come il professor Cacciari parla di ignoranza con tanta superficialità perché evidentemente non sa nemmeno di che cosa parla. Noi abbiamo nella democrazia diretta il momento principale di coinvolgimento dei cittadini italiani. Noi sulla piattaforma Russo, su cui lo chiarisco, la Casaleggio Associati non fa nessun affare perché questa cosa è una cosa veramente ignobile. Perché sia Gianroberto Casaleggio che Davide Casaleggio hanno dato il loro contributo attraverso la piattaforma Russo in maniera totalmente gratuita. Ora, detto e chiarito questo, perché è una cosa che mi fa arrabbiare molto, chiarisco semplicemente che con la piattaforma Russo noi diciamo ai cittadini che hanno la possibilità di partecipare alla vita di questo Paese, di presentare le loro proposte di legge magari in settore, in settori di cui sono esperti, poi quelle proposte vengono discusse, vengono portate in Parlamento, abbiamo il Ministro per la democrazia diretta, abbiamo abolito la tassa, l'ha fatto il Ministro Fraccaro, la tassa sulla democrazia. Cioè i cittadini che raccolgono le firme per proposta iniziativa popolare non avranno più bisogno di pagare la marca da bollo. Questo io lo trovo meraviglioso e le devo dire che sento la risposta dei cittadini che per la prima volta si sentono veramente coinvolti nella vita di questo Paese e lo fanno con un grande entusiasmo. Quindi su questa linea della democrazia diretta noi andiamo avanti, il Parlamento ha il suo ruolo, nessuno lo vuole abolire. Ma quindi possiamo immaginare un futuro magari molto lontano, per ora in cui tutti i cittadini saranno praticamente parlamentari, potranno votare le leggi da soli a casa? Guardi, voglio immaginare, ma Davide Casaleggio d'altronde parlava, diceva, tra qualche lustro, quindi parliamo di decenni. Voglio immaginare che la rete, che le nuove tecnologie diano la possibilità ai cittadini di partecipare direttamente alla vita politica di questo Paese. Poi tutte le volte in cui sarà necessario avere un'intermediazione politica, allora ci sarà l'intermediazione politica come c'è adesso. Io sono un Ministro della Repubblica, stiamo nel Parlamento, abbiamo ottenuto un risultato storico per andare in Parlamento, lo facciamo con grande entusiasmo senza mai dimenticare l'importanza di coinvolgere i cittadini italiani. Ministro, è che probabilmente quando immettono quest'elemento utopico visionario, tanto Grillo quanto Casaleggio, lasciano sempre tutti un po' storditi e quindi iniziano le polemiche. Però io, siccome volevo farle delle domande sul tema del giorno, non ci dilunghiamo su questo. Allora, io volevo entrare sull'argomento delle intercettazioni, che è stato un tema molto discusso. Voi avete adesso congelato fino al 2019 l'entrata in vigore di questa riforma di Orlando sulle intercettazioni, che era stata chiamata, c'erano state grandi polemiche con la stampa perché si parlava di una vera e propria legge bavaglio. Quindi, allora, da adesso in poi, intanto i giornali potranno continuare a pubblicare e tutto è sospeso. Dopodiché quali sono i progetti? Cosa accadrà? Allora, premettiamo che con quello che abbiamo fatto oggi, mi scusi ma per me è un motivo di orgoglio poterlo comunicare ai cittadini che ci stanno seguendo, noi abbiamo tolto le mani della vecchia politica sulle intercettazioni che rappresentano uno strumento fondamentale per combattere contro fenomeni come la corruzione. E allora, diciamo che noi stava per entrare in vigore una norma del Partito Democratico, che aveva portato avanti durante la vecchia legislatura, che praticamente non faceva altro che impedire ai cittadini italiani, perché lo scopo era questo, impedire ai cittadini italiani di ascoltare le parole pronunciate dai politici. Oggi ha picchiato duro lei sul Partito Democratico e li ha fatti arrabbiare moltissimo perché gli ha detto... Ho constatato semplicemente la realtà dei fatti. Quella norma era fatta per impedire ai cittadini italiani di ascoltare le parole pronunciate dai politici, parole scomode, magari sconveniente, quando sono al telefono con persone indagate o quando gli stessi politici sono indagati. Allora, io voglio chiarire che la giustizia in Italia non è più cosa di appartenenza dei politici. La giustizia in Italia viene gestita soltanto nell'interesse dei cittadini e dei cittadini onesti di questo Paese. Dopodiché io ho detto, e rivendico quello che ho detto, che se noi guardiamo i lavori parlamentari della scorsa legislatura, scopriamo che le intercettazioni venivano riprese e ridiscusse in aula ogni volta che scoppiava uno scandalo che riguardava qualche componente del Partito Democratico. Sarà una coincidenza? Eh, bella domanda. Non lo credo. Diciamo che ogni volta che i cittadini, l'ho detto oggi, ogni volta che i cittadini ascoltavano qualche esponente del Partito Democratico al telefono, il Partito Democratico interveniva e chiudeva la linea. Però Ministro, dirà, io faccio adesso un po' l'avvocato del diavolo, dirà che è giusto pubblicare le intercettazioni dei politici anche se e quando, ovviamente siamo in un periodo ipotetico, dovessero uscire intercettazioni di politici del Movimento 5 Stelle? Ma ci mancherebbe, ma noi non facciamo una differenza di questo tipo. Noi diciamo semplicemente che le intercettazioni sono uno strumento importante che non può essere depotenziato per proteggere i politici. Io voglio chiarirlo. Rispetto il diritto alla privacy di ogni cittadino italiano, rispetto il diritto di cronaca che c'è di fare informazione, cioè è evidente che se un giornalista viene in possesso di una intercettazione in cui un politico diceva qualcosa che non era anche penalmente rilevante, che però era politicamente rilevante, siccome noi politici ci prendiamo l'onore di rappresentare i cittadini, ci dobbiamo prendere anche gli oneri ed è giusto che i cittadini possano farsi un giudizio, soprattutto che il giornalista a quel punto, se è di interesse pubblico, come è accaduto, non so, ricordo nel famoso caso dell'intercettazione dell'orologio regalato al figlio di Lupi, niente di penalmente rilevante, ma abbiamo un ministro che si è dimesso. Ora il punto è che i cittadini avevano diritto di conoscere quella intercettazione? Secondo me sì, dopodiché i magistrati, voglio chiarire, secondo la norma che noi riscriveremo in maniera molto ponderata, dovranno chiaramente utilizzare le intercettazioni soltanto per poter scoprire fenomeni di corruzione, per esempio che noi vogliamo che, ecco, in quel settore vogliamo che venga potenziato lo strumento di intercettazione. Introduciamo un altro tema che la riguarda direttamente, che riguarda peraltro milioni di italiani, fa molto discutere ed è quello della legittima difesa. Ministro, sulla legittima difesa c'è Salvini che ha delle idee molto, molto chiare e soprattutto radicali, poter sparare a chiunque si introduca in casa altrui. Lei è d'accordo? Io voglio chiarire perché questo per me è fondamentale, lo chiarisco e voglio rassicurare Michele e tutti i cittadini che in questo momento ci stanno ascoltando, qui non si sta liberalizzando nessun'arma, qui non si sta dando un diritto di sparare indiscriminato, ci mancherebbe, nessuno si permetta di dire una cosa del genere perché io sono il Ministro della Giustizia e voglio rassicurare tutti i cittadini italiani, qui si sta parlando semplicemente di consentire ad un cittadino che si è legittimamente difeso in casa sua perché si è ritrovato un criminale che stava minacciando lui e la sua famiglia, allora il cittadino che spara si è legittimamente difeso deve poterlo provare senza essere due volte vittima della negligenza dello Stato perché questo chiariamolo, nel momento in cui quel cittadino si è ritrovato il criminale in casa lo Stato ha fallito perché lo Stato deve prevenire attraverso le forze dell'ordine e attraverso tutto ciò che è predisposto per tutelare la sicurezza dei cittadini. Nel momento in cui però un cittadino si ritrova a difendersi e deve provare la legittima difesa ecco, vogliamo che non debba affrontare un calvario giudiziale di tre gradi di giudizio perché la norma attuale ha delle zone d'ombra che noi vogliamo cancellare. E' semplicemente questo, rendere la norma più chiara rispetto ad alcune facili. Però Ministro mi scusi, su questo bisogna fare un po' di chiarezza per esempio anche rispetto alla vendita di armi alla facilità, cioè se rendere più semplice per esempio ora la vendita delle armi oppure no. C'è stata la polemica la scorsa settimana perché il Ministro Salvini era stato fotografato con la lobby delle armi cosiddette e si è detto la lobby delle armi si mette a tavolino a fare la legge sulla legittima difesa. Su questo come pensate di agire? No, l'ho già chiarito, non ci sarà nessuna estensione dell'uso delle armi. L'attuale normativa è molto rigorosa e continuerà ad essere rigorosa. Io, guardi, a un certo punto le devo dire anche questo, abbiamo chiarito sia io che il Ministro dell'Interno Salvini che c'è assolutamente sintonia nel dire che la legittima difesa è una priorità ma che non ha niente a che vedere con la sicurezza dei cittadini che deve essere garantita dallo Stato. Lo abbiamo detto mille volte. Mi viene fatta però questa domanda sulla legittima difesa quotidianamente perché mi rendo conto che ci sia la volontà in generale di dimostrare... Sembra non esserci una convergenza tra la sua posizione e quella del Ministro Salvini a sentirvi parlare. Però magari è un'impressione... È assolutamente un'impressione. Tra l'altro Salvini ha dichiarato pubblicamente di essere d'accordo con me e stiamo lavorando ad un testo che esprima perfettamente questa situazione di equilibrio. Abbiamo a cuore la sicurezza dei cittadini, la garantiamo tramite le forze dell'ordine, semplicemente diamo la possibilità a chi si è difeso legittimamente, parlo di chi si è difeso, di potersi difendere in maniera agevole e di poter provare la legittima difesa. Però io capisco che questo problema viene posto per dimostrare o ventilare una spaccatura all'interno del governo, però è sotto gli occhi di tutti, i fatti lo dimostrano, che questo governo, seppur si esprime tramite i suoi singoli ministri con uno stile differente, è evidente che il mio stile è differente da quello di Matteo Salvini, così come di altri ministri, però nei fatti questo governo è compatto e sta dimostrando di agire nell'interesse dei cittadini e soprattutto di adempiere alle varie promesse che abbiamo fatto nel contratto di governo. A proposito di promesse, parliamo di un altro tema, magari l'ultimo, visto che ci deve tra un po' lasciare. Taglio dei vitalizi agli ex deputati. Lei lo sa, si annuncia una battaglia legale molto molto dura. E allora lo chiedo al Ministro della Giustizia. Non la preoccupa il fatto che si vadano a toccare quelli che vengono considerati dei diritti acquisiti? Mi preoccupa il fatto che ci siano tante persone in Italia che si scandalizzano per il fatto che stiamo finalmente togliendo un privilegio odioso e inaccettabile. Voglio sapere perché un cittadino italiano va in pensione e prende la pensione secondo i contributi che ha versato e noi ancora dovevamo stare a vedere parlamentari che hanno passato una parte della loro vita in Parlamento che prendevano pensioni col sistema retributivo che sono uno schiaffo in faccia a tutti i cittadini che quotidianamente fanno sacrifici o che li hanno fatti e adesso stanno prendendo la pensione in base ai contributi che hanno versato. I vitalizi erano un privilegio odioso. Sono orgoglioso di poter dire erano perché grazie a questo governo non esisteva. Mi preoccupa il fatto che si vadano a toccare quelli che vengono considerati dei diritti acquisiti? Mi preoccupa il fatto che ci siano tante persone in Italia che si scandalizzano per il fatto che stiamo finalmente togliendo un privilegio odioso e inaccettabile. Voglio sapere perché un cittadino italiano va in pensione e prende la pensione secondo i contributi che ha versato e noi ancora dovevamo stare a vedere parlamentari che hanno passato una parte della loro vita in Parlamento che prendevano pensioni col sistema retributivo che sono uno schiaffo in faccia a tutti i cittadini che quotidianamente fanno sacrifici o che li hanno fatti e adesso stanno prendendo la pensione in base ai contributi che hanno versato. I vitalizi erano un privilegio odioso. Sono orgoglioso di poter dire erano perché grazie a questo governo non esiste più. Da quando ero piccolo sentivo parlare dell'abolizione dei vitalizi e però poi alla fine non si faceva mai. Finalmente noi stiamo dimostrando che si possono prendere impegni e si mantengono. E tra l'altro questi impegni sono tutti quegli impegni che tutti dicevano che erano impossibili da mantenere. E invece stiamo dimostrando che quando c'è la volontà gli obiettivi si raggiungono. Facessero tutti i ricorsi legali che vogliono. Noi andiamo avanti nei limiti che ci dà la Costituzione. Abbiamo fatto una delibera parlamentare e i vitalizi appartengono al passato. E voglio dire a tutti che questo è solo l'inizio. Perché il cambiamento che porterà in Italia questo governo sarà un cambiamento epocale. E lo dico a partire proprio dal settore di cui mi occupo io, che è la giustizia. Perché daremo un segnale ai cittadini onesti e gli diremo che lo Stato sta dalla loro parte. Perché non ce la faccio più a vedere lo sguardo di riassegnazione di un cittadino onesto italiano che sa che prima o poi dovrà soccombere di fronte ai furbetti. Ministro, questo è il passato. Questa è la promessa. Suona un po' anche come minaccia. Vedremo quello che succede. Ministro, buona fede. No, è una promessa. La ringrazio, la ringraziamo tantissimo per aver partecipato a questa nostra trasmissione. L'aspettiamo molto presto per una nuova intervista. Grazie e buon lavoro. Grazie a voi. Buonasera, buonasera a tutti.